Salve a tutti i pochi amici! È stata appena resa disponibile su Play Store e su App Store una nuova applicazione del mondo Pokémon. L'applicazione dal nome Casetta dei Pokémon è rivolta ai fan più piccoli della serie. All'inizio ci verrà consegnato un uovo che dovremo cercare di schiudere attraverso lo svolgimento di varie attività. Tra le tante attività presenti nell'applicazione potremo esplorare la casetta e incontrare nuovi Pokémon. In totale sono presenti più di 50 Pokémon. È possibile prendersi cura dei propri amici. Si può cercare di scoprire qual è il nascondiglio dei vari Pokémon e infine leggere le avventure interattive dei Pokémon. Vi lascio il link in descrizione per scaricare l'applicazione. Spero che questa news vi sia piaciuta. Alla prossima!